Voglio dare il massimo, sto venendo da un momento di crisi perché le Paralimpiadi di Rio non sono andate come me l'aspettavo e quindi ho avuto dei mesi di crisi dai quali sto cercando di uscire e sto riacquistando sempre di più fiducia. Io spererei in casa che le cose vadano tutte bene anche perché vorrei proprio regalare qualcosa alla mia società, al Castenaso. E quindi voglio solamente che vada tutto bene, voglio solamente impegnarmi al massimo e scendere dalla linea di tiro soddisfatta di quello che ho fatto. Quali sono i tuoi obiettivi anche per il futuro? Alla fine di quest'anno a settembre parteciperemo ai mondiali a Pechino, agli scorsi mondiali che si sono svolti in Germania nel 2015 ho vinto il titolo mondiale a livello individuale, ho vinto la medaglia di bronzo con il mix team con Alberto Simonelli e il bronzo con la squadra femminile. Io per i prossimi mondiali, cioè l'avvenimento più vicino, vorrei riuscire a ricompetere per il titolo individuale, arrivare sul gradino più alto anche con il mix team e perché no con la squadra femminile. A livello di sport invece tu sei un atleta, puoi raccontarci qualcosa, come vi trovate, come siete trattati, anche prima come siete tutelati? Io mi trovo in una realtà in cui siamo davvero tutelati, io qua a Castenaso mi trovo davvero bene, sia nell'impianto comunque in tutti i servizi che offre. Siamo in una federazione dove nello stesso tempo siamo molto tutelati. È uno degli unici sport dove normodotati e disabili possono competere insieme.